L'Uomo più ricco del pianeta Cosa esattamente spera di trovare? Cosa significa essere il più ricco del mondo? Le tecnologie della Taurus Engineering forniscono energia senza emissioni di carbonio Il famoso West Taurus Ha delle statue che rappresentano coloro che furono o che sono Carian Fru È stata selezionata tra 273 candidate Lo sto facendo solo per un film Lui chiede i suoi ospiti in gabbro e trasforma in pietra Alcune persone creano i loro avatar nel mondo virtuale Io ho creato il mio nel mondo reale Noi siamo i maestri della finzione nelle nostre vite Tu vivi in un mondo fantastico mentre io vivo in quello reale Per la rappresentazione di stasera Un team di ingegneri ha costruito una catapulta Quest Taurus non ci prenderà la terra Quando verrà la terribile tempesta La roccia dormiente si sveglierà per vendicare la sua gente Fai qualsiasi cosa tu abbia bisogno di fare Fai qualsiasi cosa tu abbia bisogno di fare